Ciao a tutti, la mia esperienza con Veronique è stata fantastica. L'ho contattata perché dovevo partecipare a una serata speciale e desideravo un trucco sofisticato che mi facesse sentire bella. Ci siamo sentite, mi ha chiesto di presentarmi col mio solito trucco in modo da avere un'idea di quelli che fossero i miei gusti per non stravolgere la mia immagine. Si è informato sul tipo di serata a cui avrei partecipato e sul risultato che avrei voluto ottenere. Dopodiché si è messa all'opera. Che dire, è stato fantastico, molto precisa, professionale, il tempo è volato, è stata anche piacevole la conversazione e il risultato senza parole. Ce ne sono vista subito bellissimo, durante la serata ho ricevuto un sacco di complimenti, mi hanno detto tutti che è luminosa. È stato molto bello e il trucco ho tenuto tutta la serata, quindi consiglio tantissimo l'esperienza.